Nella prima parte del 2024 l'economia lucana ha ristagnato, interrompendo la fase di modesta crescita registrata nel 2023. Produzione industriale a ribasso, dinamica degli investimenti indebolita, export meno 40,9% collegato alla domanda di auto prodotti a San Nicola di Melfi, con meno 58% di vendite. Senza super bonus, settore delle costruzioni più lento, mentre l'edilizia pubblica è sostenuta dal PNRR. Stabile il settore estrattivo di petrolio e gas, come il credito bancario. Bene invece il turismo, da gennaio ad agosto, del più 2,3%, l'11% straniero. Cresce il mercato del lavoro sia autonomo che dipendente, 3,5%, con presenza di donne ancora al di sotto della media nazionale. E quanto emerge dall'andamento congiunturale del primo semestre, contenuto nel rapporto l'economia della Basilicata, presentato nella filiale di potenza della Banca d'Italia. L'economia lucana ristagna per un rallentamento del ciclo congiunturale a livello internazionale, a livello europeo e a livello nazionale. C'è un rallentamento rispetto all'anno precedente. In Basilicata soffriamo di più perché il settore produttivo più rilevante che è il comparto automobilistico fa segnare un significativo calo dei livelli produttivi. Rallenta un po' tutta l'economia della regione. I settori che offrono maggiormente occupazione sono il turismo, i servizi e invece continuiamo ad avere un deflusso per quanto riguarda l'industria. Sul fronte delle imprese è stato rimarcato tassi di interesse elevati riducono la possibilità di accumulare capitali ma c'è ottimismo per i mesi a venire. Insomma prosegue il chiaroscuro lucano in tempi complessi per l'intero scenario globale. Se non recuperiamo produttività non c'è occupazione, non c'è incremento anche delle retribuzioni e quindi effettivamente secondo me quello sugli investimenti è il dato che dal mio punto di vista è quello che deve farci maggiormente riflettere.